ciao ragazzi bentornati anche oggi su un box italia qui abbiamo iphone 13 iphone 13 mini in due colorazioni interessanti direi e anche il nostro coltellino per gli unboxing che non ci servirà perché come vedete non c'è più la pellicola non c'è più la pellicola di conseguenza le cose cambiano abbiamo questa che vi mostro più da vicino piccola pellicolina qui diciamo a strappo che ci permette di effettuare l'unboxing andiamo a farlo subito iphone 13 disegnato da apple in california assemblato in cina anche qui abbiamo la stessa cosa che abbiamo un iphone 13 mini andiamo ad aprire anche questo ci sono rispettivamente altre due pellicole al di sotto che andiamo a rimuovere prontamente e siamo pronti a vederli da vicino insieme finalmente in questo unboxing scatole non sono molto diverse però come detto cambiano dal punto di vista del packaging dunque meno plastica ecco l'unboxing di iphone 13 indubbiamente molto molto bello e non ci basta perché qui possiamo fare unboxing di iphone 13 mini vi presento offerte italia il nuovo gruppo telegram ufficiale di unbox italia ogni giorno per voi le migliori offerte tech pochi prodotti di alta qualità unisciti ora offerte italia il nuovo canale telegram gratuito trovi il link in descrizione beh sicuramente molto molto bello andiamo a vederli da vicino così possiamo gustarci un po di dettagli di entrambi i modelli via le confezioni che come sempre adesso integrano il cavo usb di tipo c lightning non più l'alimentatore non più le cuffie non più nient'altro sempre meno cose ringraziamo di avere il cavo dunque iphone 13 iphone 13 mini hanno potenti funzioni tra cui il sistema doppia fotocamera più veluto che si è mai visto su un iphone il design è solito ormai dai bordi piatti anche questo è stato riciclato come si dice da iphone 12 piacevole ovviamente al tatto abbiamo il chip a 15 bionic tutto dunque sarà più fluido e scattante il nuovo grand angolo con stabilizzazione ottica dell'immagine sul sensore permette di fare delle foto splendide anche quando c'è poca luce mentre grazie agli stili fotografici che sono una novità è possibile aggiungere un tocco personale agli scatti e nei video entra in gioco la modalità cinema che crea in automatico dei cambi della messa a fuoco veramente belli grazie a un maggior numero di bande 5g potete usare ovunque funzioni come share play su facetime che sarà in arrivo a breve e gli accessori mag save ci sono sempre ovviamente si agganciano magneticamente e consentono una ricarica wireless più veloce prolungando ulteriormente l'autonomia con il doppio dello spazio di ricariazione nella configurazione standard perciò non si parte più con 64 ma con 128 gigabyte 13 e 13 mini faranno felice chiunque li comprerà e a proposito di magneti qui abbiamo la possibilità di vedere i magneti presenti all'interno di iphone confronto con 12 mini direi che il mag safe dentro è uguale ma questo ce lo teniamo da parte per ulteriori controlli tra poco controlli di differenza e nulla di più allora analizziamo lì uno alla volta questi iphone nuovissimi questi iphone 13 prima di andarvi a dare qualche dettaglio in più allora abbiamo un classice to parlante microfono però purtroppo abbiamo sempre la porta lightning non abbiamo l'usb di tipo cilvano sim tutto uguale qua è sempre arancione le bande delle antenne e comparto della fotocamera prima le due fotocamere erano disposte in questa maniera adesso invece hanno cambiato un po' lo standard allora vi mostro anche che le fotocamere si sono ingrandite in conseguenza sono visibili anche il quadrato è differente che riporta poi le fotocamere e secondo me sì 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 è un po' più grande e anche il blu vi faccio notare la differenza della finitura blu è molto diversa rispetto al blu di iphone 12 che è molto più scuro lasciamo qua in disparte così non facciamo confusione andiamo a vedere questo bellissimo 13 mini in colorazione rosa è veramente molto molto cipria molto tranquilla non è un rosa shocking o rosa volgare guardate di quanto fuoriescono le fotocamere mamma mia sempre di più qui abbiamo il marchio CE solito e anche qua vi mostro rispetto al mio i due microfoni in basso più gli autoparlanti non sono cambiati però il gruppo fotocamere sì ecco 13 mini e 12 mini vicini a confronto confronto che secondo me potrebbe essere interessante passerò a 13 mini quest'anno penso proprio di no perché appunto deluso dalla batteria che mi abbandona sempre a metà pomeriggio ma partiamo con un po' di informazioni che sicuramente vi interessano allora i modelli nascono con 128 gigabyte 256 512 colori galassia mezzanotte blu rosa e product red design l'avete visto è in alluminio aerospaziale disponibile in questi 5 colori abbiamo un design davanti invece col ceramic shield resistenza all'acqua di grado ip68 che è la migliore dei settori dunque caffè tè siete a posto batteria iphone 13 offre oltre 2,5 ore di autonomia in più rispetto a iphone 12 mentre il 13 mini offre rispetto al mio un'ora e mezza in più di autonomia ma che comunque secondo me per il mio utilizzo non è proprio sufficiente però ripeto per il mio utilizzo display display super retina xdr perciò la sigla xdr che avete visto in giro la trovate anche sopra i vostri iphone 13 qualora vogliate acquistarli luminosità di picco 800 nit all'aperto che arriva a 1200 nit per le foto e i video in hdr non male il 13 mini ha un display da 5,4 pollici sempre xdr mentre il 13 ha un display sempre super retina xdr però da 6,1 più grande 5,4 6,1 il 13 poi il processore abbiamo visto che è la 15 bionic neural engine il più veloce che c'è ha una potente cpu a 6 core con 2 performance core e 4 efficiency core perciò ce n'è di core a volontà dunque tutta la potenza che serve per gestire task impegnativi in maniera fluida ed efficiente dunque nuovissima gpu 4 core per immagini effetti luce rese realistiche per grafiche per giochi insomma neural engine 16 core calcoli del machine learning ancora più veloci quindi potete utilizzare funzioni come per esempio il testo attivo che è disponibile nell'app fotocamera grazie ai os 15 davanti fotocamere mai più così importanti come adesso quelle frontali fotocamera true depth da 12 megapixel con ovviamente il face id più compatta di circa 20% adesso infatti andiamo a vederla accendendo iphone dunque più spazio al display sistema evoluto di doppia fotocamera abbiamo visto ci sono diverse novità gli stili c'è uno smart hdr 4 che migliora in automatico il colore contrasto illuminazione per più soggetti nella stessa foto modalità notte su tutte le fotocamere disponibili anche davanti per fare belle foto con poca luce ultra grand angolo innovato perché praticamente è un nuovo sensore che mette più in luce i dettagli nelle zone buie di foto e video e le immagini risulteranno meno sgranate ed ecco qui che vi mostro l'introduzione di questo bellissimo telefonino con il nuovo notch nuovo notch che andiamo a mostrarvi l'altoparlante andiamo se no troppo vicino troppo vicino troppo vicino ok l'altoparlante lo vedete come come alto rispetto al questo vediamo se riesco a mostrarvi ok questo è il mio 12 si riesce a vedere sono tutti questi sensori la notch è diversa no su 12 mini eccolo qua rispetto al 13 mini è diversa sì però è un po più profonda un po più bassa sul modello nuovo sul modello 13 un po più profonda nel senso che scende di più rispetto ai modelli 12 ed è una cosa da tener conto interessante comunque come novità dunque apple raddoppia il supporto per le reti 5g con altri 200 operatori c'è sempre la dual sim e le sim per avere due numeri su un solo iphone perciò dual sim nel senso una sim fisica e l'altra una e sim chiaramente tutti gli accessori mag safe disponibili sono compatibili anche con questo modello di iphone che ne pensate avete già scelto il vostro iphone ricordatevi di iscrivervi ad unbox italia e lasciare un bel like se questi video vi piacciono e noi ci vediamo nel prossimo video che in realtà è l'unboxing dell'iphone 13 pro ciao grazie a tutti grazie a tutti